Presidente, ci risiamo, nuova stagione teatrale al Comunale di Caserta, tante le novità ma soprattutto tanta attesa nel pubblico. Tanta attesa nel pubblico ed è una giusta attesa perché dopo il periodo terribile trascorso, dovuto a quello che tutti quanti sappiamo, alla pandemia che ci ha bloccato e addirittura ci ha fatto temere sulla ripresa, e certo questa è una, diciamo così, l'attesa è giustificatissima, tra l'altro c'è da dire anche che è una festa quando riaprono i battenti di un teatro e non solamente quando viene inaugurato un teatro, ogni stagione che si avvia è un modo per, diciamo così, tenere viva la città. Tra l'altro il teatro ha una funzione straordinaria, quella della socialità e dell'aggregazione, dell'incontrarsi, del ritrovarsi ed è giusto che sia così, che una città come Caserta, che è viva e di fermenti culturali, abbia il suo teatro con una programmazione all'altezza della città. Tra l'altro poi Caserta è una piazza, come dire, importante per il teatro, ha una sua tradizione per cui è importante esserci. Certo, è importante esserci, ma ripeto, anche quello che era stato detto qualche tempo fa per combattere quello che erano i disastri dovuti all'effetto pandemico, dice facciamo il teatro sul web, facciamo il teatro in piattaforma. Non è la stessa cosa, assolutamente. Il teatro ha un suo rituale, ha una sua necessità di esistere, di essere in presenza. Il pubblico deve interagire con ciò che avviene sulla scena. Per televisione, come immagine riprodotta, si può assistere solamente a quello che è della buona prosa, ma niente di più. Non si vive il teatro in questo modo. Anche il programma di quest'anno è molto intenso, con nomi importanti. Molto intenso, con nomi importanti perché vogliamo tenere fede a quello che è stato l'impegno che nel corso di questi anni abbiamo assunto con la città di Caserta. È una collaborazione che dura da più lustri, ci auguriamo che possa ancora continuare, per cui alla fine il programma, appunto come è stato detto precedentemente dall'assessore, è quello di mettere insieme e declinare le varie esigenze, i vari gusti e quindi avere un teatro che sia fortemente impegnato, ma anche un teatro che in certe circostanze faccia un poco, diciamo così, distrarre e rallegarsi un tantino.